Ciao ragazzi, sono BatD e benvenuti in questo nuovo video di Youtubers Life! Se l'avrete sentito proprio in questo momento, sono in compagnia della mia mascotte, Mattus che mi dà suggerimenti mentre gioco, però purtroppo non mi dà suggerimenti perchè il mio computer è lento Ma va bene Tony, ho deciso di iniziare questo video con una canzone Quindi, buona visione! Buona visione! Allora Marco, vuoi fattermi i sufici? Gatto divertente! Non è vero che ho detto Marco, ho detto Marcus Io sto a rifattendo qua per coprire Allora, ma che cosa è successo se ci scordiamo il testo? Io prendo un squadro assassino, che ne dici? Siiii! Vedi? Yeah, ho domandato la canzone Commento sul tavolo, sarcastico, che ne dici? Siiii! E inoltre quando avete sentito che ha detto Marco, era solo un mio amico del gioco, si chiama Marco In questo episodio non ve lo posso fare vedere Allora, se non vi ricordate nello scorso episodio Se avete sentito bene, è il mio guanto da voi Scusate Allora, se avete visto lo scorso episodio, sapete che avevo traslogato prima di iniziare il video E così la mamma non ci darà mai più fastidio Allora, Marcus Eh? Stavolta Che cosa intendi fare per aiutarmi? Lavorare? Pagare l'affitto? Aspettare che il video si carica Lavorare e pagare l'affitto? Lavorare! Ok, vediamo che lavori interessanti ci sono oggi Yeeey! Allora, se andiamo a dormire facciamo l'insegnante di musica e ci paga ben numerico, anzi 60 parlo Quindi cosa ne dici? Siii! E se faccio questo lavoro, in totale, ciao conquilino, si puoi vendere un curere, in totale mi pagheranno 60 Oppure vado all'ospite degli eventi così mi pagheranno 48 Che c'è? Che c'è? Ma Rus C'è? Valle camera è ora abbiamo di fare il video Allora, in questo video allora in questo video è stato davvero molto bello anche se non lo monti già so che sarà bello perché durante l'ultima volta che ho fatto il mio ultimo video cioè una settimana fa mi è piaciuto davvero un sacco siamo stati insieme molto a lungo e appena arriverò ai 50.000 iscritti potete sperirmi nell'appartamento con due camere il costo a mesi è di 320 euro quella velocità di internet è il doppio spazi di lavoro due quindi posso avere un collaboratore la cucina devo pagare sempre io non so perché studiare no corsi si e coinquilino no in cui invece c'è il coinquilino internet è meno quindi il costo a mesi è di meno purtroppo in questo momento ci dobbiamo salutare quindi lasciate un sacco di pollici in su iscrivetevi al canale e non dimenticatevi iscrivetevi al canale e non dimenticatevi di iscrivervi e l'ho detto un'altra volta ciao ciao